No, 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 attacchiamoci, 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 attacchiamoci. Uno sì, uno no, non creiamoci. Facciamo questa fila, facciamo questa fila, attacchiamoci. Attacchiamoci. Dai, tutti fratelli, dai, vogliamoci bene, dai ragazzi. Ok, facciamo questa fila. Vedi il turistico, è rimasto. Guardi così, un po' più bene. Allora, campo a sinistra, su. Oh, insieme. Ok, ci siamo. Allora, 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 lo facciamo. Due, punto, due, e poi c'è. Mettiamo. Oh, oh, oh. Ci faccio una bella testa. Ok? Togliatevi le spalle. Ok, sempre io. Sì, sì, sì. Ok. Ci siamo. E dove stanno facendo la fotografica? Sì, sì. Allora, uomini e donne, gamba a sinistra. Oh, perfetto, ci siamo. Vai, sgambettiamo, sgambettiamo. Allora, vai camminando. Pa, pa, pa. Allora, insieme, vai insieme. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Oh, 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 vai, 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 vai. Pronti? Vai. Gamba destra. Viva! Viva! Ora, insieme, fermi così. Fermi così. Delicatevi. Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Ok, va. Ok, va bene.